Fabio, Martino, si siamo trovati bene su Julio, insomma la prima colloquia su Julio e quindi non abbiamo manco visionato tanto in giro insomma. Io personalmente mi sono trovato molto bene, con Julio veramente mi ha messo al mio agio, abbiamo scherzato, veramente molto bene. Sì infatti la cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che comunque io è stato molto presente però non ci siamo accorti della sua presenza. Questa è una cosa che Julio aveva detto e io l'avevo scomprata in pieno perché abbiamo un album che è perfetto ma io non me ne ricordo neanche le foto. e la disponibilità perché comunque noi col fatto del cambio della data, insomma conciliare il tutto è stato difficile ma comunque abbiamo trovato parecchie disponibilità. Io consiglierei veramente alle persone che conosco per andare, per ricordarsi di quel giorno lo consiglierei vivamente su Julio e Julio. Sì infatti proprio per avere la tranquillità giusta in quel giorno di essere eseguiti in tutto e per tutto, insomma. Ma guardi, l'avevi tutte colorate. Sì, eh? Sì.